Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale, fate controllare se tutto funziona, sì, sembra di sì, sono Mariano. È diverso tempo che non faccio degli unboxing, infatti le cose un pochino qui a casa si sono accumulate. Ho preso diverse cose, provato diverse cose e oggi ve ne voglio far vedere 3-4 che a mio avviso sono veramente molto molto interessanti. Partiamo immediatamente, le prime due cose sono queste, non semplici caricatori, credetemi, ma delle vere centrali di ricarica, sono gli Ugreen Nexod Pro. Guardate, ve lo dico immediatamente, io sono gelosissimo dei miei dispositivi e se non ho i caricatori originali, ed ormai all'interno dei nostri device sono difficilissimi da trovare, sono veramente geloso del come ricaricare i miei dispositivi. Sono un maniaco, uno di quelli che sta attento a non far scaricare mai la batteria, non farla arrivare mai al 90%, nel trovare dispositivi che mi danno sicurezza. E questi sono assolutamente due dispositivi di Ugreen, io mi fido ciecamente. Un'altra cosa che vi dico è che questi sono molto adatti a gente che, come me, viaggia e viaggia parecchio, perché non solo vi permettono di ricaricare i vostri cellulari, ma anche, ed anche questo da 65, oltre questo da 160 W, vi permettono di ricaricare anche i vostri computer. Partiamo, vi faccio vedere come al solito un unboxing finto, perché io li ho già provati tutti per voi. La marca, appunto, è Nexod Pro 3 Port Gun Fast Charger e andiamo subito ad aprirlo. Ecco, appunto, questo è il, vedete, un pochino acciaccato, perché già io l'ho utilizzato e guardate, lo guardiamo qui, abbiamo due porte USB-C ed una porta USB-A. Qui, non so se si vede benissimo dalla camera sopra, ma vedete come ho le indicazioni, laptop e anche tablet. Questa, poi, oppure anche cellulare, ed invece qui posso ricaricare tranquillamente anche i cellulari. Poi vi faccio vedere ogni porta a cosa corrisponde. Benissimo, facciamo subito una prova, guardate, mettiamolo subito alla prova. Io metto qui, le prove poi te le faccio vedere. Guardate, ho fatto già diverse prove anche di velocità, anche se io sono molto scettico sulla velocità. Ecco, apriamo una piccola parentesi. Ho fatto questa prova sulla velocità, ma guardate, io non sono molto a favore del fast recharging, perché a mio avviso i dispositivi poi si viziano, ma questo è solo una mia impressione. Non ho basi scientifiche per dirlo. Per i miei dispositivi io non utilizzo il fast recharging, quindi preferisco una ricarica più lenta, ma affidabile. Vi faccio vedere subito i timing delle prove, perché l'ho fatto, l'ho cronometrato solo per voi. Ad esempio, in questo caso qui, io adesso mi prendo un paio di cavi. Il primo cavo per ricaricare il mio iPad, eccolo qua, l'iPad. Lo mettiamo, ecco qui, ti faccio vedere. Lo mettiamo qui e vedete come immediatamente, immediatamente, un attimo perché questo deve essere accesa la presa, qui vedete. Poi vado con il mio cellulare ed eccolo qua, eccolo qui, andiamo, pa! E guardate come anche in questo caso inizia immediatamente la carica. Visto? Beh, poi potremmo utilizzare anche l'altra USB-C. Ora vi faccio vedere anche il fratellone maggiore, che è quello da 160 Watt, che è davvero un portento. Guardate, anche dal peso, adesso chiaramente il peso voi non lo potete vedere, ma vi assicuro che anche il peso è abbastanza importante. Guardate qui che centrale di ricarica abbiamo due USB-C, una terza USB-C per cellulari, questo invece c'è l'indicazione tablet e portatile, ed una USB-A aggiuntiva. Qui davvero, se ti porti questo, in viaggio non hai bisogno di portare nient'altro. Immaginate di collegare il vostro MacBook Pro 16 pollici e di vederlo passare da 0 a 50 in soli 27 minuti. Questo è quello che fa. Questo è grazie alla porta USB-C1 che libera una potenza massima da 140 Watt. E poi ve lo faccio vedere. E dimostra proprio tutta la sua capacità. Ma c'è ancora di più, perché la tecnologia dentro, che si chiama Nexod, adesso qui c'è un po' di riflesso, ma si chiama Nexod Pro, questa nuova tecnologia ci dà delle prestazioni eccezionali, offrendo la carica sicura e super veloce in un design che davvero è molto molto bello. Guardate il design di questi nuovi caricatori Ugreen. Marca davvero eccellente, ve lo assicuro. Guardate, eccoci qui. Questa è tutta la famiglia. Questo e questo sono quelli che vi ho fatto vedere. Però vi volevo far vedere una cosa che spesso ci sfugge e che invece, a mio avviso, è molto importante. Ed eccolo qui. Four port charging. E cioè ti dice come puoi fare con le quattro porte che caricano. E quindi puoi caricare massimo 65 sulla prima, massimo 65 sulla seconda, che significa già due computer, prima e seconda. E poi 15 watt max, che diciamo, in cui puoi ricaricare queste altre due, con queste altre due. Se invece ricarichi con solo tre porte, guardate 65 65 30, oppure 65 65 22 e mezzo, vedete le varie, oppure una sola, vedete, a 100 watt e poi le altre due a 15. Invece il due port charging, guardate quante combinazioni posso avere, una port charging. Questa ti riesce a dare 140 watt, ma proprio davvero una potenza assurda. Qui 100 watt, 30 watt o 22 e mezzo, se ad esempio ne vuoi utilizzare solo uno. Vediamo il costo quindi delle Ugreen. Eccolo qui, guardate, ve lo faccio vedere su Amazon, 55 99 con un coupon in questo momento del 15%. Te l'ho detto, non è bassissimo il prezzo, perché per chi tiene i propri dispositivi questi sono veramente numero uno. Poi andiamo su questo, beh, questo è proprio il centralone di ricarica e costa, ecco, 119 euro e 99, anche in questo caso con un 15% di sconto. Poi, come al solito, tutti i link te li metto in descrizione. Insomma, in sintesi, questi due caricatori, guardate, ve li faccio vedere, no, non lo stacco, scusate, perché come ti dicevo sono geloso, adesso mi sto a ricaricare, scusami. Questi due caricatori, a mio avviso, questi entreranno assolutamente nel mio zaino e non usciranno più. Magari quello più piccolino quando faccio avanti e indietro è questo quando sono in viaggio. Qui considerate appunto quando tutta la vostra famiglia può ricaricare, davvero numero uno. Passiamo subito al secondo di cui sono fierissimo e mi piace tantissimo. Chi mi segue sa che le cuffie Tozo fanno parte della mia vita quotidiana. Ne utilizzo tantissime. Per correre utilizzo un tipo di cuffie Tozo, ve lo fate vedere. Per viaggiare utilizzo un altro tipo di cuffie e queste le ho prese perché hanno la cancellazione del rumore attiva per stare dentro casa. Quando io monto i video dentro casa non sempre c'è un silenzio assoluto e quindi ho bisogno di cuffie per montare che mi isolino anche dall'esterno, ma anche magari quando mi voglio concentrare. Adesso te le faccio vedere, le ho provate e mi piacciono tantissimissimo. Ed eccole qui, guardate le Tozo HT2 Adaptive Hybrid Active Noise Cancelling Headphones. Quindi sono cuffie con cancellazione di rumore. Forza, andiamole a vedere. Ti ho fatto vedere anche l'unboxing precedentemente. Eccolo qui, un unboxing adesso un po' rimesso così. Guardate come arrivano in questa bellissima confezione. Altra cosa che ti dovevo dire è che io amo quelle che mi danno anche a disposizione il cavo jack per sentire la musica. Perché non sempre voglio stare in bluetooth. E già, perché queste sono bluetooth. Quindi io non prendo cuffie che non abbiano, che siano bluetooth pure. Vabbè, magari sbaglio, magari no, non lo so. Guardate, adesso ve le faccio vedere. Eccole qui, guardate che belle. Sono molto morbide. Anche qui ho questa parte molto morbida sopra per adattarsi molto bene alla testa. Adesso vi faccio, vi rimetto anche la copertina così magari qualcuno di voi vuole vederla e segnarsela. Ecco, questo appunto è il cavo jack che va qui. Questo è il cavo di ricarica nel caso in cui tu le vuoi utilizzare per ricaricare. Queste cuffie over ear promettono davvero tantissimo. Un'esperienza uditiva veramente molto molto interessante. Grazie alla tecnologia proprio di cancellazione attiva del rumore. Che neutralizza i rumori di fondo attraverso onde sonore sovrapposte. Questo l'abbiamo già fatto vedere in altri video. Hanno un'autonomia fino a 60 ore di riproduzione e quindi vi accompagnano lungo sessioni di lavoro molto importanti offrendo una flessibilità con connessioni sia cablate, come abbiamo detto, che wireless. Il design a me è piaciuto perché è minimale. Vi faccio vedere tutti i tasti. Il primo tasto è quella della cancellazione del rumore. Questo è chiaramente il microfono con cui voi potete utilizzare anche per call e cose del genere. Questa è la ricarica USB-C ottimo. Questo è appunto l'alloggiamento del jack. I tasti volume su volume giù e questo è il tasto di accensione. Adesso io ve lo accendo. Poi la parte di connessione è veramente molto molto semplice. Vi faccio vedere anche l'app del telefono perché anche l'app del telefono ha il suo perché. Guardate eccole qui. Vedete io ne ho diverse. Ecco questa è la parte di connessione. È molto molto semplice. La connessione guardate non ha davvero nulla di difficile. Vedete come qui anche puoi impostare la cancellazione del rumore, il transparency mode oppure il noise reduction e così via. Poi un'altra cosa carina è la parte di equalizzazione perché puoi andare a mettere diverse tipologie di equalizzazione. Vedete se tu vuoi maggiore bassi oppure la musica classica, dance e così via. Possiamo mettere anche original. Poi vedete come puoi addirittura come vuoi impostare la tua equalizzazione. Insomma queste mi sono piaciute davvero davvero tanto tanto tanto. Ultima cosa che ti faccio vedere sul loro sito e poi anche su Amazon per vedere il costo. Questo è il loro sito. Tozo HT2 Hybrid Active Noise Cancelling Wireless Headphone. E qui va bene ci sono tutte le foto e così via. Il prezzo te lo faccio vedere dopo. Vedete vi potete focus on work and study. È quella cosa che a me piace tantissimo come ti dicevo prima. La cancellazione del rumore a mio avviso è davvero ottima. Sia per il fatto di quella passiva e quindi il fatto che ha dei grandi padiglioni che non danno assolutamente fastidio. Ma anche quella attiva e quindi puoi inserire proprio il fatto della cancellazione del rumore. Le key function guide ma poi ci sono anche sulle istruzioni. Guardate come puoi regolarlo. 40 ore senza cancellazione del rumore. 60 ore con la cancellazione del rumore. Queste altre cose le abbiamo viste e ti faccio vedere il prezzo perché il prezzo è fantastico. Eccolo qui. 69,99. Ma hai a disposizione anche un coupon di 10 euro. Insomma con circa 60 meno di 60 euro ti porti a casa delle cuffie. Ecco in questo momento è partita anche la musica. Ti porti a casa delle cuffie che a mio avviso sono davvero di un'ottima fattura. Quindi se non vuoi spendere una fortuna. Se dici ma voglio provare. Adesso le tolgo. Non sento nemmeno la mia voce. Se voglio provare un paio di cuffie con cancellazione del rumore senza spendere una fortuna. Guarda io te le consiglio vivamente. Poi ti lascio sempre tutti i link in descrizione. Andiamo andiamo avanti. Ho già fatto una recensione di questa azienda ma mi piace davvero tantissimo. Me lo voglio portare in ufficio. Questa è un'azienda EBL per la ricarica delle batterie. Questa come anche prima non ricarica soltanto le AAA o AAA scusate ma ricarica tutte le tipologie che ti possono venire in mente di batterie. È veramente una... con questo diciamo hai a disposizione tutto ciò di cui hai bisogno. Vi faccio vedere subito sia le pile sia l'unboxing per farti vedere cosa c'è dentro. Quindi concludiamo il nostro tour con questo dispositivo carico e batterie EBL 12 più 2 Charging. Vedete? Un must have per chi cerca una soluzione di ricarica versatile ed affidabile. Questo carico a batterie universale non solo gestisce fino a 14 batterie di tutti i formati tra cui AAA, AAA, C, D, 9 Volt ma offre anche la possibilità di caricarle individualmente. Questa è la cosa che mi piace tantissimo con i suoi 12 slot. Ora vedete? Nella confezione non è che abbiamo tantissime cose. Abbiamo questo e il cavo. D'altra parte cos'è che volevamo di più? Di più rispetto a tutte le cose che abbiamo detto. Ecco vi lascio anche la stazione qui. Ora ci iniziamo a ricaricare qualcosa così che ti faccio vedere proprio il fatto di ricaricarle singolarmente e di avere il LED qui sopra che ci sta a dire a quanto sta la nostra ricarica. Questo è veramente molto molto bello. Vedete? Qui ho la parte per mettere l'alimentazione. Quindi mettiamo l'alimentazione come al solito. La mettiamo da questo lato. Eccoci qui. Vedete come lui si è acceso ed ora non abbiamo nessun indicatore perché non sto ricaricando nulla. Adesso prendo proprio le loro pile, le loro batterie, perché sul loro sito potete acquistare anche le batterie. Eccole qui. Guardate. Io ho preso le AAA e AAA. Eccole qui. Guardate. Ora ne mettiamo una, ad esempio, in questo lato qui. Vediamo. Ecco qui. Eccola. E vediamo come la batteria sta iniziando la ricarica. Ora ne posso mettere, ad esempio, un'altra in questo posto qui. E vedete come anche in questo posto qui è iniziata la ricarica. Ecco, quindi, le puoi ricaricare o tutte insieme, ma, vabbè, avere 12 batterie, 12 più 2 addirittura, è molto molto difficile. Oppure le puoi ricaricare anche singolarmente. Anzi, visto che sono scariche, io, anche in questo caso, io sono gelosissimo delle mie pile, vabbè, delle mie batterie, le mettiamo tutte a ricaricare. Eccole qui. Guardate come ho tre da questo lato e una da questo lato qui. Posso mettere a ricaricare anche queste, che sono sempre le loro. Queste sono ancora da unboxare, perché io ho già delle loro batterie, perché mi fido molto di questa azienda molto, molto seria. E quindi, ecco, le mettiamo a caricare tutte. Vedete, posso metterle adesso una qui, un'altra in quest'altro alloggiamento e, insomma, divertirmi adesso a ricaricarle tutte quante. E poi, ecco, vedete come ho tutti i vari indicatori che mi indicano qual è il livello di ricarica di ogni singola batteria. Insomma, con questo non hai bisogno più di niente. Vedete, qui hai poi anche ricaricare le altre tipologie, insomma, quelle quadrate, quelle che ci mettevamo sulla lingua per vedere se erano cariche. Anche in questo caso, te le faccio vedere sul loro sito. Eccoli qui, sul loro sito. Vedete, questi fanno solo batterie. Ecco perché mi piace molto. Cioè, non è che fanno tutto tra cui le batterie. Sono specializzate, le BL, sono specializzate in batterie. Guardate, tra l'altro, appunto, l'overheat protection, short circuit, overcharge protection, cosa che è molto importante perché non deve andare in over ricarica. Eccole qui, vedete, qui ci sono tutti, tutti i dettagli, poi ve li potete leggere. Vi faccio vedere anche il costo su Amazon. In questo momento non è disponibile. Ai, 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 però te lo faccio vedere qui. Costa circa 82 dollari, quindi sui 75 euro. Poi ti metto anche in descrizione il link Amazon, così quando è disponibile ce l'avrai anche tu. Carissimi, vi ho fatto vedere tutti questi prodotti qui. Sono quattro prodotti, due della Ugreen, poi quello della Tozo che io amo particolarmente e questo della EBL. Tutte case che erano già passate qui nel mio canale e se ve li ripropongo sono davvero molto molto contento di tutti questi marchi. In descrizione ci sono tutti e tutti i link. Ora non mi resta che ricordarti di iscriverti al mio canale. Tutte queste cose passano anche sul mio canale Telegram. Dunque, iscriviti a Telegram e ciao ciao, alla prossima. Grazie a tutti.